Il voto della mia stagione è 8,5 perché è stata una stagione ricca di soddisfazioni dal punto di vista personale ma soprattutto dal punto di vista del collettivo inteso come squadra. Abbiamo raggiunto in parte i nostri obiettivi con la qualificazione delle Final 8 del campionato primavera e anche il raggiungimento del premio come miglior portiere del torneo di città di Viareggio dal punto di vista personale. I rigori quest'anno, come del resto degli altri anni, la sorte non è stata dalla nostra parte perché uscire quattro volte consecutivamente i rigori penso non sia una cosa che capiti a tutte le squadre però dobbiamo farcene una ragione e continuare a lavorare, andare avanti e riprovarci il prossimo anno. Il Palermo è stato sicuramente la svolta dal punto di vista personale della mia carriera fino a questo momento perché arrivavo da un brutto momento in cui forse non riuscivo a esprimere al meglio le mie potenzialità e il Palermo invece, a differenza di molte altre squadre, ha creduto in me e ha subito puntato su di me dal primo giorno e insieme siamo riusciti a crescere mano nella mano. Il Palermo è stato fondamentale anche per il raggiungimento della nazionale perché comunque solo grazie al Palermo sono riuscito a raggiungere questo obiettivo perché mi ha dato sempre la possibilità di allenarmi con allenatori validi che mi hanno sempre aiutato a migliorarmi e a giocare con continuità e far sì che le mie doti venissero fuori. Quest'anno ho fatto due panchini Serie A, sono stato spesso convocato e mi sono allenato molto spesso in prima squadra. Questo per me è molto importante perché comunque aiuta per la crescita di un giovane dal punto di vista formativo ma non soltanto dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista dell'apprendimento comunque all'interno di uno spogliatoio, delle regole. Queste cose qui ti fa assaggiare cosa vuol dire il calcio vero. L'unico obiettivo che mi sono posto è quello di continuare a lavorare e continuare a migliorarmi e cercare di fare sempre meglio. Grazie a tutti.